benvenuti a questo nuovo appuntamento della rubrica gli appalti oggi tratteremo il tema dei criteri di aggiudicazione dopo aver delineato gli elementi essenziali di una procedura di gara avendo trattato il tema delle soglie comunitarie il tema delle procedure delle procedure sia quelle ordinarie che quelle eccezionali ed anche altri diciamo così argomenti è necessario a questo punto trattare appunto il tema del criterio di aggiudicazione in questo caso siamo di fronte a due sole metodo quello del prezzo più basso o del minor prezzo e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa il tema è trattato all'interno del codice degli appalti all'interno del titolo 4 rubricato appunto aggiudicazione nei settori ordinari a partire dall'articolo 94 e successivi il comma 1 di questo articolo ci dice che leggo testualmente gli appalti sono aggiudicati in base ai criteri stabiliti conformemente agli articoli 95 96 e 97 previa verifica in applicazione degli articoli 85 86 e 88 della sussistenza dei seguenti presupposti per quanto riguarda i presupposti torneremo tra un attimo su questi elementi che analizzeremo nel dettaglio ma prima di fare prima di procedere oltre è necessario accennare brevemente al tema della programmazione degli appalti all'interno dell'articolo 21 del codice degli appalti il legislatore ha inserito un obbligo per le stazioni appaltanti di redigere un piano triennale dei lavori pubblici e un piano biennale delle forniture dei servizi questo al fine di ottimizzare gli acquisti e quindi di spendere al miglior modo e le risorse pubbliche per quanto riguarda invece il singolo acquisto e dai fine della trattazione di questa di questa chiacchierata è necessario soffermarsi sulla natura dell'oggetto dell'appalto se ci si trova di fronte ad un lavoro ad un servizio o ad una fornitura diciamo così di carattere standardizzato l'elemento prezzo avrà un maggior peso rispetto appunto alla qualità che è l'altremento di cui si tiene conto quando ci si trova di fronte ad una procedura d'appalto si pensa ad esempio alla posa in ovola di un pavimento all'interno di un progetto di ristrutturazione di un edificio pubblico ovviamente la cosa che ci interesserà sarà sicuramente il prezzo visto la tipologia di lavoro che stiamo chiedendo al mercato diversamente nel caso in cui ci si trova di fronte ad ad un progetto che abbia all'interno del quale la qualità assume invece un diciamo così un'importanza maggiore la stazione appaltante si concentrerà su altri elementi come vedremo tra poco nel dettaglio si pensa ad esempio all'acquisto di un servizio di video sorveglianza questo è uno di quei servizi che la pubblica amministrazione acquista abbastanza spesso soprattutto in relazione al tema della sicurezza e della sorveglianza questo è un servizio che viene che può essere svolto in tantissimi modi e con diversi tipi di strumenti i quali offriranno dei risultati niente affatto per la coronabile tra di loro pur essendo tutti all'interno dello stesso ambito videosorveglianza da questi due piccoli semplici esempi emerge chiaramente da subito che che la scelta che deve fare il RUP che rappresenta la stazione appaltante che viene individuato per ogni procedura ai sensi dell'articolo 31 del codice è molto importante perché la scelta del criterio e la sua applicazione come vedremo subito dipende appunto dalla natura dell'oggetto post a base di gara ma torniamo però ancora sull'articolo 94 il quale prevede che l'aggiudicazione avviene previa verifica in applicazione degli articoli 85 86 e 88 della sussistenza dei seguenti presupposti quali sono questi presupposti il primo lettera a l'offerta è conforme ai requisiti alle condizioni e ai criteri indicati nel bando secondo lettera b l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 che soddisfa i criteri di selezione fissate dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 83 questa parte della norma ci indica ci dice due cose importanti la prima la più ovvia è che chiunque parteciano ad una procedura d'appalto deve essere in possesso dei requisiti di carattere morale o di carattere generale come si dice generalmente la seconda invece la più importante è quella che ci tocca più da vicino in quest'analisi che stiamo facendo è quella che dice che l'offerta conforma i requisiti alle condizioni e ai criteri indicati nel bando ma questi elementi che sono i requisiti e le condizioni e i criteri indicati nel bando in realtà sono esattamente quelli che vengono individuati dal RUP quando predispone il capitolato speciale d'appalto quando predispone il bando quando individua i criteri di partecipazione i criteri di partecipazione in fondo non sono altro che quegli elementi che servono a circoscrivere quali operatori economici potranno partecipare ad una determinata gara perché sono in possesso appunto di quei requisiti i requisiti che possono essere di carattere professionale i requisiti che possono essere di carattere economico finanziario come ad esempio stabilire che per una determinata gara l'operatore economico deve avere un fatturato che negli ultimi tre anni generalmente è compreso non deve essere inferiore ad una determinata somma quindi come vedete nell'individuazione del criterio il RUP individua circoscrive tutti i soggetti che potranno partecipare a quella determinata gara perché perché solo quei soggetti che avranno i requisiti che possono essere fatturato che possono essere il possesso di una sua che possono essere aver eseguito un determinato servizio negli ultimi tre cinque dieci anni e questo appunto per poter individuare il soggetto che può che può fornire alla pubblica amministrazione la stazione appaltante il miglior servizio o la migliore opera possibile ovviamente la componente prezzo ha un suo peso ma questo come vedremo presto anche grazie a determinate norme inserite all'interno del codice degli appalti può essere quasi del tutto ininfluente e quindi il RUP può decidere che soltanto l'elemento qualità ha diciamo riveste la sua centralità ci ricorda infine il legislatore che la verifica appunto di questi requisiti che noi abbiamo stabilito a priori che poi vanno dimostrati da tutti gli operatori economici successivamente in fase di partecipazione vengono svolte queste verifiche attraverso l'articolo 85, l'articolo 86 e l'articolo 88 del codice degli appalti l'articolo 85 è quello dedicato che introduce il DGUE questo diciamo così strumento è estremamente innovativo ed è stato introdotto con l'approvazione del decreto legislativo 50 del 2016 e cioè il nuovo codice degli appalti è obbligatorio per tutte le procedure transfrontaliere ed è facoltativo per le procedure diciamo così ordinarie il DGUE non è altro che una dichiarazione omnicomprensiva che viene diciamo così predisposta da parte della stazione appaltante e che deve essere compilata dall'operatore economic che decide di partecipare a quella determinata procedura all'interno di questa all'interno di questo documento si trovano tutti gli elementi tutte le dichiarazioni che il che l'operatore economico fa compila e presenta alla stazione appaltante al fine di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti della sia dell'articolo 80 quindi di carattere generale e morale e sia dell'articolo 83 come abbiamo appena detto che possono anche possono essere il possesso della sua piuttosto di un fatturato x piuttosto e quindi trovo trovo che sia estremamente interessante l'introduzione di questo strumento perché velocizza all'inizio diciamo così della nel 2016 quando il nuovo codice è stato approvato la comunità europea aveva messo a disposizione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici un sistema online di predisposizione del DGUE che poteva essere messo a disposizione dell'operatore economico il quale non aveva bisogno di stamparlo compilarlo scansionarlo e ricaricarlo ma poteva essere compilato direttamente online all'interno di questa piattaforma e quindi poi presentato direttamente online questa piattaforma è stata poi dismessa diciamo così dopo un certo numero di anni e ogni stato membro della comunità europea dell'unione europea doveva predisporne uno da mettere a disposizione della del proprio territorio nazionale attualmente il CONSIP ha predisposto una una piattaforma online che a questo che ora attualmente è ancora sperimentale ma che sta per diciamo così per essere messa a disposizione di tutte le stazioni appaltanti degli operatori in modo definitivo l'articolo 86 invece dedicato alla diciamo così introduce il concetto che il requisito può essere verificato la stazione appaltante con ogni mezzo di prova diciamo che ove la stazione appaltante necessiti di ulteriori prove da far fornire all'operatore economico per la dimostrazione del possesso di un requisito può servirsi grazie all'articolo 86 e richiedere all'operatore economico la dimostrazione del possesso di un determinato requisito che non si è potuto diciamo così dimostrare prima o quegli strumenti messi già a disposizione l'articolo 88 invece fa riferimento al registro online dei certificati e certis ed è uno strumento diciamo così ed è uno strumento che dimostra l'ulteriore sforzo da parte della comunità europea e anche da parte del nostro Stato di voler digitalizzare e smaterializzare le procedure d'appalto al fine di renderli più semplici e soprattutto diciamo così più veloci. Fatta questa lunga ma doverosa introduzione attraverso la lettura dell'articolo 94 che ci introduce appunto ai criteri di aggiudicazione passiamo ora ovviamente all'analisi dei due criteri a cui e su cui e intorno ai quali stiamo ragionando. Il comma 2 dell'articolo 95 prevede l'estazione appaltante nel rispetto dei principi di cui è l'articolo 30 abbiamo già parlato in altre circostanze dell'articolo 30 il quale contiene tutti i principi che sono di derivazione diciamo così europea come si ricavano all'interno dei trattati della comunità europea piuttosto che delle direttive soprattutto la 23 alla 24 alla 25 che trattano appunto il tema degli appalti pubblici delle concessioni e degli affidamenti per i servizi speciali acqua elettricità gas eccetera e via dicendo. Appunto l'estazione appaltante procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo e chiude con una interessante diciamo così indicazione infatti chiude dicendo seguendo un criterio che di comparazione costi efficace quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 96. Personalmente con l'introduzione di questa chiusa dell'articolo 95,2 ho trovato estremamente interessante il fatto che il legislatore si sia posto il problema di analizzare e introdurre all'interno del codice degli appalti e quindi all'interno della spesa pubblica il tema di un criterio di comparazione costo efficace quale quello del costo del ciclo di vita. Per quanto di mia conoscenza in realtà all'interno dei bandi pubblici in pochi hanno introdotto questo tipo di comparazione cioè che tenga conto non soltanto degli elementi che sono prodromici all'appalto e quindi che afferiscono nello specifico alla predisposizione, alla realizzazione di quell'opera, di quel servizio, di quella fornitura ma quasi mai ho trovato nei bandi qualcosa che faccia riferimento al ciclo di vita cioè a quanto ad esempio quella costruzione o quel servizio possa in realtà costare in termini sociali e ambientali alla fine del suo ciclo di vita e quindi quando viene dismesso, quando poi un edificio va ad esempio demolito, sono elementi molto molto interessanti soprattutto in un periodo come il nostro dove il tema dell'ambiente è molto molto importante soprattutto per le sue ricadute sia sociali che economiche ma diciamo che sì che non ci occuperemo di questo del tema del costo del ciclo e della vita perché pur essendo molto interessante perché non è oggetto di questa nostra trattazione. Dalla lettura è bene osservare un elemento emerge chiaramente la propensione anzi forse la preferenza da parte del legislatore per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e soprattutto per due motivi come è stato segnalato da parte di molti commentatori e anche da parte della dottrina. Il primo è ricercato all'interno della normativa della comunità europea che ha introdotto il principio della concorrenza il quale si è tradotto all'interno degli appalti pubblici nell'affermazione di un indiscusso favor per la massima partecipazione di tutti quei soggetti che hanno ovviamente i requisiti e che quindi possono partecipare alle procedure d'appalto. Inoltre l'ordinamento della UE ha una propensione verso un miglioramento della qualità dei servizi offerti alla pubblica amministrazione piuttosto che ottenere attraverso le procedure d'appalto risparmio. Il secondo elemento invece va ricercato all'interno della nostra normativa nazionale e appunto il legislatore italiano ha ritenuto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia lo strumento migliore per far fronte e per combattere quei fenomeni corruttivi di cui ogni giorno sentiamo notizie all'interno dei telegiornali e di cui non ha molto senso parlare. Ovviamente siamo di fronte ad un indirizzo operativo e non ha un obbligo perché la pubblica amministrazione comunque come si è detto tante volte nelle nostre chiacchierate ha un potere di decidere, ha un'ampia discrezionalità nelle sue scelte e prima di passare oltre nell'analisi è utile però effettuare un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di questi due criteri perché solo dalla comprensione di questi elementi probabilmente si riuscirà a capire meglio come vanno utilizzati e la migliore metodologia per poterli applicare all'interno delle singole procedure di gara diciamo così che in termini di costi benefici i due elementi che vengono in rilievo sono il tempo e l'elemento tempo e l'elemento costo quello del prezzo più basso garantisce sicuramente la speditezza della procedura è evidente una gara col massimo ribasso prevede due sole sedute di gara generalmente la prima è quella che riguarda o durante la quale viene effettuata la valutazione della documentazione amministrativa generalmente effettuata da parte del RUP nella quale viene accertato il possesso di quei requisiti di cui si è detto rispetto all'articolo 80 e rispetto all'articolo 83 questa procedura lo si è detto più volte prevede semplicemente l'analisi delle autodichiarazioni rilasciate da parte degli operatori economici e quindi della sussistenza appunto del possesso di quei requisiti nella seconda conclusa questa fase indipendentemente dal fatto che si sia dovuto far ricorrere al soccorso istruttorio o meno vi è una seconda seduta di gara durante la quale si prende atto semplicemente dei ribassi proposti dagli operatori economici o del prezzo perché quando si parla del massimo del minor prezzo in realtà nelle offerte economiche ci si può riferire si può chiedere all'operatore economico di indicare una percentuale di ribasso o diversamente si può chiedere a quell'operatore di indicare direttamente il prezzo al quale è disposto ad offrire quel lavoro, quel servizio o quella fornitura preso atto di tutti i ribassi offerti da parte degli operatori economici ovviamente a quel punto automaticamente si genera diciamo così una graduatoria e quindi a questo punto si è conclusa, si sono concluse due fasi di gara e si giunge ad individuare il soggetto che ha primo in graduatorio provvisoriamente ovviamente su quale poi andranno effettuate le verifiche del caso ovviamente anche tenendo conto di quelle che è l'offerta norma ma in questo caso non ci interessa analizzare questo aspetto perché lo faremo in una successiva diciamo così chiacchierata abbiamo detto che in termini di tempo sono questi estremamente ridotti escluso il periodo della pubblicazione che dipende dalla procedura ovviamente se siamo di fronte ad una procedura ordinaria quindi la procedura aperta o la procedura ristretta 30 giorni o se siamo di fronte ad una negoziata invece 15 giorni dalla prima seduta di gara 3-5 giorni per le comunicazioni dell'organizzazione della successiva seduta di gara quindi effettivamente diciamo così che la procedura esperita con il criterio del massimo ribasso del minor prezzo è in effetti estremamente veloce non richiede tempi lunghi evidentemente gli aspetti negativi del ricorso a questo criterio è quello della qualità dell'opera perché? perché l'operatore economico che dovrà presentare il suo prezzo pur di diciamo così prendere in considerazione un ribasso molto spinto e quindi cercare di ottenere l'appalto o di indicare diciamo così un prezzo molto basso tenderà ovviamente a tagliare i costi e in questa operazione molto spesso questo taglio riguarda anche i tagli sia al materiale che alla manodopera ovviamente cosa estremamente diciamo così delicata perché? perché appunto incide sensibilmente sulla qualità della lavorazione altro elemento critico è quello legato invece alla possibilità della formazione di cordate almeno questo insomma in passato era più era abbastanza ricorrente la formazione di cordate di operatori che nel formulare le loro offerte presentate secondo uno schema ben preciso cercavano di influenzare appunto alla graduatoria diciamo che questo sistema oggi è stato in qualche modo arginato perché per quanto riguarda il minor prezzo al fine dell'individuazione della soglia di anomalia indicata all'articolo 97 del codice a seconda del numero di partecipanti a seconda di alcuni elementi è abbastanza improbabile che si possa individuare e individuare la soglia di anomalia ex ante e soprattutto appunto influenzarla per quanto invece riguarda il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quest'ultimo ovviamente e diversamente dal minor prezzo permette di elevare notevolmente la qualità dell'offerta anzi più che dell'offerta della proposta che viene fatta dall'operatore economico perché nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la procedura prevede la presentazione da parte degli operatori economici di un progetto che può essere un progetto relativo all'opera piuttosto che relativo alla fornitura o al servizio all'interno di quel progetto secondo le indicazioni che vengono predisposte da parte del RUP l'operatore economico deve indicare pedisseguamente la modalità con cui realizzerà appunto l'opera, il servizio o la fornitura e ovviamente lo farà sulla base di quei criteri e subcriteri che vengono individuati come abbiamo detto da RUP e sulla base dei quali vengono indicati verranno poi assegnati diciamo così i punteggi a quel progetto che è stato presentato appunto dall'operatore economico giova appunto a ricordare che questo criterio di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95,10 bis prevede l'assignazione di 70 al progetto tecnico l'assignazione di 70 punti al progetto tecnico e massimo 30 punti all'offerta economica ed è evidente che posto in questi termini l'operatore economico non ha molto interesse a puntare sulla deduzione del prezzo e piuttosto ha interesse a puntare sulla qualità del suo progetto va aggiunto ulteriormente a quanto si inquiddetto che in realtà non è il rapporto 70-30 in realtà non è un rapporto fisso nel senso che il legislatore ci dice che impone al soggetto che organizza la procedura che all'offerta economica non possono essere dati più di 30 punti il che significa che ove si voglia dare ancora maggior risalto all'offerta diciamo così tecnica si ridurranno ulteriormente i punti all'offerta economica al punto da ridurre ad esempio a 90 punti all'offerta tecnica e soli 10 punti ad esempio all'offerta economica e quindi con l'indubbio vantaggio che di spingere di indirizzare l'operatore economico verso un migliore verso un migliore diciamo così progetto tecnico inoltre inoltre è un altro dei vantaggi che si possono diciamo così indicare per quanto riguarda il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è che la norma prevede prevede che l'operatore possa indicare all'interno del proprio progetto delle migliorie e sono previste dal codice e possono anche essere ovviamente valutate quindi come vediamo per la sua struttura appunto questo criterio è sicuramente diciamo così da scegliere da selezionare ove la qualità del diciamo così del progetto vuole tendere ad un aumento appunto di questi elementi qualitativi partendo già da una base che è quella che è stata diciamo così predisposta dal RUP all'interno dei documenti di gara quindi quello che si vuole si vuole un ulteriore miglioria un ulteriore miglioramento della qualità che verrà offerta dal singolo operatore economico all'interno del proprio progetto ovviamente va aggiunto che la fase di valutazione di questi punteggi viene effettuata da parte di una commissione di gara individuata ai sensi dell'articolo 87 del codice degli appalti composta di un numero dispare di soggetti superiore ad uno e quindi di tre o cinque professionisti di soggetti che hanno una diciamo così conoscenza nell'ambito del progetto che va valutato e dell'oggetto dell'appalto da valutare questi diciamo così finora trattati possono essere diciamo così indicati come i vantaggi i lati positivi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tuttavia dall'altro lato ci sono due elementi negativi che influiscono influenzano negativamente questa procedura e il primo è relativo al tempo e il secondo è relativo al costo il primo relativo al tempo afferisce al fatto che la procedura della procedura d'appalto in realtà vedrà aggiunta una seduta di gara in più nella prima come è accaduto nel meno apprezzo ci sarà quella durante la quale viene valutata la documentazione amministrativa ammessi tutti i concorrenti alla fase successiva il progetto tecnico che è stato presentato dagli operatori economici viene analizzato appunto dalla commissione giudicatrice la quale in sedute riservate valuta sulla base di quegli elementi che sono stati forniti dal RUP cioè i criteri subcriteri con i relativi punteggi assegnati valuta ogni singolo progetto e quindi ne determina assegna ad ogni singolo progetto un determinato punteggio che verrà poi diciamo così reso pubblico alla fine della seconda seduta di gara quando questa seduta in seduta pubblica vengono appunto diciamo così indicati i punteggi a tutti gli operatori economici successivamente viene valutata ovviamente anche in questo caso l'offerta economica dell'operatore e la sommatoria dei punteggi che vengono ottenuti da ogni singolo operatore economico si trasforma in una graduatoria come nel primo caso e anche qui come nel minor prezzo vi è una formula per la valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo quanto indicato nell'articolo 97 del codice il secondo elemento quindi questo è il primo elemento che incide sul tempo perché opere complesse richiedono molto spesso anche mesi per poter essere valutate da parte della commissione giudicatrice quindi se di fronte ad una gara al minor prezzo possiamo ipotizzare una diciamo così un periodo di non più di 20-30 giorni dal giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle proprie offerte nel caso invece del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possono volerci 7-8 mesi 10 mesi un anno per la valutazione dei progetti e quindi per la redazione di una graduatoria diciamo così provvisoria mi si passa il termine la proposta di aggiudicazione l'altro elemento invece è il prezzo in questo caso a quanto alla spesa sostenuta dalla stazione appaltante per le pubblicazioni che viene fatta comunque anche nel caso del minor prezzo ove prevista dal codice va aggiunta la spesa per la commissione giudicatrice tra l'altro è necessario aggiungere che le spese per quanto riguarda la pubblicità quelle in realtà vengono rimbossate da parte dell'aggiudicatario come previsto dalla norma entro 60 giorni dalla giudicazione mentre le spese sostenute dalla stazione appaltante per la commissione giudicatrice che a volte ripeto richiede tempi lunghi e richiede l'intervento di professionisti estremamente preparati e con una lunga esperienza nel campo questa semplicemente va a pesare sul quadro economico dell'opera quanto detto sin qui ci suggerisce dunque che uno stesso oggetto di gara può a parte alcuni casi di cui tratteremo a breve può essere in realtà posto a gara sia col criterio del minor prezzo che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso e il RUP che rappresenta la stazione appaltante come abbiamo detto che deve riflettere quindi e scegliere se sia più opportuno dare maggior peso all'elemento qualità piuttosto che all'elemento prezzo anche facendo riferimento a quei due semplici esempi a cui si è fatto cenno diciamo così all'inizio abbiamo dunque descritto questi elementi essenziali dei due criteri di aggiudicazione e di come sulla base di quella della natura dell'oggetto della gara il RUP ovviamente sarà portato a scegliere l'uno l'altro criterio appunto sulla base dell'interesse della stazione appaltante su quale sia l'obiettivo che la stazione appaltante sia data attraverso la procedura di gara non ci resta quindi che affrontare il quanto indicato ai commi 3 e 4 dell'articolo 95 all'interno dei quali il legislatore ha indicato in quali casi sia obbligatoriamente la stazione appaltante diciamo così sia obbligata ad utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero il criterio del minor prezzo ed è intuibile la ragione per cui il legislatore abbia imposto un criterio piuttosto che l'altro ma vedremo subito per quale ragione leggo testualmente sono aggiudicate esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo a i contratti relativi ai servizi sociali di ristorazione ospedaliera assistenziale scolastica nonché i servizi ad alta intensità di manodopera come definita l'articolo 50 i contratti relativi all'affidamento dei servizi ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superi a 40.000 euro e i contratti di servizi e fornitori di importi pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo si coglie immediatamente la ragione per cui il legislatore in questi tre casi impone l'utilizzo dell'offerta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa perché in effetti la natura dell'oggetto posto a base di cara è tale per cui la qualità non può che essere l'oggetto principale non può che essere l'evento principale della procedura di cara non può che essere quello che deve guidare il RUP e la commissione giudicatrice nella scelta nella selezione degli operatori economici in grado di offrire il miglior servizio e lo sono i servizi sociali lo sono i servizi di ristorazione ospedaliera dove in effetti partendo da una base diciamo così da una documentazione di base posta dal RUP o dalla stazione appaltante non si può che tenere il meglio attraverso le migliorie o attraverso progetti di esecuzione e di fornitura del servizio e che siano ancora migliori di quelli posti a gara così come lo sono i servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro è evidente che qui si è fatto riferimento alla soglia perché per importi più bassi e quindi modesti non ha molta importanza o perlomeno diciamo così l'elemento qualità può non essere così importante rispetto invece ad un prezzo più basso diversamente può essere utilizzato il criterio del minor prezzo precedentemente le fattispecie erano tre ma sono state poi ridotte a una perché soppresse con la legge 50 del 2019 con lo sblocca cantieri per capirci quindi può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3 lettera A è evidente come abbiamo fatto anche tornando con la mente all'esempio che ho fatto all'inizio è evidente che servizi e forniture con caratteristiche standardizzate non possono che portare semplicemente alla scelta del minor prezzo perché proprio perché chiunque partecipa a quella procedura di car non potrà che svolgere quel servizio o quella fornitura in quel determinato modo si pensi ad esempio alla fornitura non so della carta di toner piuttosto che di oggetti di uso comune che quindi qualunque operatore fornirà allo stesso modo e con le stesse caratteristiche e quindi la stazione appaltanto non può che cercare di ottenere quel servizio o quella fornitura ad un prezzo più basso o ad esempio come dice l'ultimo capoverza fatta eccezione per quei servizi ad alta intensità di manodopera è evidente che se il servizio richiede più del 50 se il costo di quel servizio richiede una prestazione di manodopera superiore al 50% è evidente che la stazione appaltanto non può fare ricorso al minor prezzo perché in realtà si andrebbe ad incidere anche sul costo della manodopera cosa che non può essere per legge diciamo così come previsto l'articolo 95,10 autorizzata e permessa ma soprattutto proprio per evitare questo tipo di distorsione del mercato e di un utilizzo della manodopera sbagliato o del lavoro nero o del fatto che qualcuno lavori 10 ore viene pagato semplicemente per 5 ore la trattazione di questo di questo tema dei criteri di aggiudicazione sicuramente risultata più lunga e complessa ma era necessario affrontarla esaminando tutte le fattispecie e tutti i dettagli di questi due di questi due criteri grazie per averci seguito a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti